In Umbria stiamo organizzando una specie di rete tra tutti i protagonisti della comunicazione ecclesiale. Abbiamo cercato di capire in che modo possiamo rendere più efficace il nostro sistema comunicativo sia attraverso la stampa, sia attraverso la radio, sia attraverso gli altri mezzi, anche gli ultimissimi mezzi di informazione di tipo digitale. Un vero e proprio network di comunicatori e di media ecclesiali per aumentare la qualità e la quantità dei messaggi lanciati dalle diocesi dell'Umbria, all'opinione pubblica e ai fedeli. Nasce da questo presupposto il corso di formazione sulla comunicazione organizzato dalla Conferenza Episcopale Umbra e destinato sia a coloro che già operano nel mondo della comunicazione ecclesiale regionale, sia a sacerdoti, operatori pastorali e animatori della cultura e della comunicazione. nove moduli formativi fino a marzo 2011 per rendere... Tutto l'agire ecclesiale, dalla catechesia alla carità a qualsiasi altro momento, ancora più fruibile, soprattutto da quelli che sono più lontani. Da questo punto di vista la rete si offre come un territorio tutto da esplorare e nel quale rendere possibile una presenza e una vicinanza della Chiesa per altri versi molto più difficile.